... Serie di finte contro Marino, la palla fuori per l'Italiano, ultimi 3 secondi, 42 giocche ai 24, Kandes dai blocchi! Assurda la difesa di Anche il Moreno da 7 metri di Sant'Angeli, sbaglia! Inchiodata di Neko Hunter ora! Una prova a rispondere a Abbott, tripla lunga, rimbalzo di Ancelotti e poi Powell sul passaggio di tocco di Fabi. Arriva il blocco di Taylor Smith, Ruski alza un altro lob per Taylor Smith. Loewenzi sotto per Lawson, schiaccione! Manovra, immagino fino alla fine del tempo concesso, la squadra ferrarese con Guarino che va con l'alle up! Ancora Udanoi! Immediatamente da Tommy Marino, palla sotto per Sorcas, che ha un gran controllo e ha una gran inchiodata! Far rubare al meglio, consegna la palla tra le mani di Vici, poi si la mette a un compagni che non termina! Ooooo! Qualsiasi cosa stessi dicendo non ha sento, per questo gioco Miller-Rais. Resumo che la rimessa fosse Imolese in questo caso. Mamma mia nel frattempo, altro numero di Udano. Subito, un calcio. Ancora 5-0 la palla dentro. Imolese, arriva il perro, lo porta a casa, ne inchioda due, eccolo qui è Daniel.